Ciao, siamo andati a vedere una presentazione di Samsung all'interno del Dirk Winkenberg Shop e facciamoci raccontare che cosa c'è di nuovo. Abbiamo diverse novità come per la divisione audio-video di Samsung, oggi presentiamo la nuova gamma dei TV LED 8200Hz ma abbiamo anche novità il fatto di videocamere, fotocamere e lettori MP3 ovvero quello che chiamiamo il digital imaging. Il fatto di fotocamere la novità principale è la ST500 e la ST550 ovvero la prima fotocamera con il doppio display, display frontale che permette con facilità dell'autoscatto e anche avere dei filmati che possono atterrare l'attenzione dei bambini e quindi permettere delle migliori foto di bambini. A livello di videocamere sicuramente la U10 è un oggetto nuovo nel panorama, una videocamera per gente giovane che vuole fare filmati e avere la possibilità di caricarli velocemente su YouTube. Mentre a livello di lettori MP3 abbiamo tre diverse novità la cui caratteristica principale è quella di avere delle micro SD per cui avere un numero illimitato di memoria. Bene, le nostre novità per quanto riguarda la categoria TV sono sicuramente le serie 6, 7 e 8 a LED. Oggi presentiamo in particolar modo quello che è il primo LED 200Hz e che è proprio denominato dalla sigla 8. Caratteristiche e altre caratteristiche principali, lo spessore, solamente 2,5 cm e come la serie 7 il collegamento ad internet anche wireless. Per qualsiasi altra informazione con la bella mail e noi vi rispondiamo. Ciao!